Una storia vera in cui intreccia la storia con la S maiuscola, una storia dentro alla storia, quella racchiusa nelle pagine di Pian di Luce, l'ultimo romanzo di Martino Panico, già sindaco di Cantiano e ora autore. Il libro, pubblicato per la casa editrice CS di Padova e presentato negli scorsi giorni nella sala refettorio della Biblioteca Spirelliana di Gubbio, alla presenza del sindaco Filippo Osterati e del giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, parte da una ricerca storica ben strutturata negli anni del secondo conflitto mondiale ed approde in un percorso della memoria in cui vanno in scena la guerra, la rabbia e la tragedia. Eppure tutto è sottoposto a una forza superiore, la forza dell'amore, sia esso fatto di passione, famiglia, amicizia, rispetto o perdono. Quello che rimane da fare a una persona che in qualche modo non è più giovanissima è quella di trasmettere quel po' di memoria che abbiamo ereditato come testimoni dei testimoni, cioè persone che hanno conosciuto quelle che davvero hanno vissuto quelle vicende che si raccontano. Metto insieme con il principio che i fatti storici di per sé esprimono degli elementi così strani, straordinari, che non c'è bisogno di aggiungere una fantasia letteraria. L'importante è saperli rappresentare per come realmente sono accaduti e in questo dare anche un significato alle vicende. Qualcuno sostiene ogni evento, ogni avvenimento, anche drammatico, a un giorno dopo. Qual è il giorno dopo di tutte queste vicende? Da questo punto di vista è una sorta di vademercum su come gestire gli eventi storici, affinché gli stessi non ci travolgano. Maria e Alberto decidono di sposarsi e di farlo a pian di luce il loro paese d'origine. Oltre all'amore, gli unisce la passione per la storia contemporanea, per cui frequentano Ferruccio, un anziano signore che racconta loro alcuni fatti storici successi in paese, anni or sono. La narrazione dell'anziano fa venire a galla una verità così grave che mette in discussione persino il loro progetto d'amore, per poi giungere ad un travolgente epilogo. Pian di luce racconta una storia nella complessità della storia più grande, perché ogni evento drammatico ha il suo giorno dopo. E per il giorno dopo il suggerimento di Panico è quello di mantenere vivo il ricordo, liberandoci però dell'odio. Chi ci riesce veramente, spiega l'autore, diventa migliore.